Canto numero 93 Dall'aurora io giuro fino al mondo ti chiamo La sede è solo di te, l'anima mia come terra Non mi fermerò solo istante, sempre canterò la tua Perché se mio Dio il mio riparo mi proteggerà Dall'ombra delle tue ali, dall'aurora io cerco te Dio al ramo così chiamo La sede è solo di te, l'anima mia come terra Non mi fermerò solo istante, io racconterò le tue opere Perché se il mio Dio il mio riparo bene Niente mai potrà la notte contro di me Dall'aurora io cerco Dall'aurora io giuro fino al tramonto ti chiamo La sede è solo di te, l'anima mia come terra deserta Finale! La sede è solo di te, l'anima mia come terra deserta Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo Il Signore sia con voi Carissimi, bentrovati, benvenuti E vedete questa bella frase Chi accoglie voi accoglie me L'ha detta Gesù per incoraggiare un po' gli apostoli Che dovevano andare in missione Egli aveva predetto che sarebbero stati a volte rifiutati Anche dai parenti più stretti Qualcuno dai genitori, qualcuno dai figli Proprio queste cose che fanno male a volte, no? Perché non sempre anche la fede tua viene capita dai tuoi cari Ma però dice Quando qualcuno vi accoglie, accoglie me Quindi voi non andate a vedere che l'altro non vi ha accolto Andate a vedere chi vi ha accolto E pensate che addirittura quella persona ha accolto me Anche se non lo sapeva Ma questo tema dell'accoglienza Ecco, non vale solo Ecco, per chi come noi vuole annunciare il Vangelo agli altri E non sempre si sente accolto Vale in tutte le cose della vita Proprio dobbiamo dire che 50 anni di matrimonio Significa che vi siete sempre accolti E vi siete perdonati E vi siete Avete avuto pazienza reciproca I difetti che magari ci possono essere Gli sbagli E ricominciamo insieme, no? Questo accogliersi sempre Dai, però io ci sono Però io ci sono con te E ha portato frutto nei vostri figlioli Ecco, nelle vostre famiglie che loro hanno formato La bella nipotina E che bello Vi ringrazio proprio E porto anche frutto Quel presepio, eh? La vostra accoglienza recibe Porta anche frutto quel presepio Che tutti gli anni fate E quindi Oggi vogliamo proprio fare tanti auguri A Giuseppe e Anna Che oggi fanno 50 anni di matrimonio Ma lei si chiama Veranna, eh? Giusto? Bene Veranna Cosetta E Giuseppe Innocenzo Ricorrendo oggi Il cinquantesimo anniversario Del giorno in cui Mediante il sacramento del matrimonio Avete congiunto le vostre vite In un vincolo indissolubile Siete venuti nella casa del Signore Per rinnovare gli impegni solennemente sanciti Davanti all'altare Ecco, voi potete Datevi la mano destra E ricevete nuovamente La benedizione del Signore Preghiamo O Signore Tu hai creato l'uomo e la donna A tua immagine Capaci di amarsi In 28 giugno 1970 Tu hai chiamato Giuseppe e Anna All'amore coniugale Ebbene Rinnova la tua benedizione Stendi la mano su questi tuoi figli E fa che nel vincolo da te consacrato Sappiano ancora donarsi affetto Sostenere la loro famiglia Essere di esempio Nella loro comunità cristiana Benedici anche i loro figli Del loro nuore E la loro nipotina Accetta il bene Che essi hanno fatto finora Purifica le loro debolezze E sostieni la loro speranza Te lo chiediamo Per Cristo nostro Signore Puoi battare la sposa Dopo Auguri Auguroni allora Ecco Signore Ti chiediamo perdono Allora Quando Non siamo capaci Di accogliere Accoglierci gli uni gli altri Come tu ci accogli Confesso A Dio onnipotente E a voi fratelli Che ho molto peccato In pensieri Parole Opere Omissioni Per mia colpa Mia colpa Mia grandissima colpa E supplico La Beata Sempre Vergine Maria I Angeli Santi E voi fratelli Di pregare Per me Il Signore Dio nostro Ma state tranquilli Oggi vi parlerò Di quando I quelli della tua famiglia Ti fanno incavolare E diremo Ah c'è una persona Che non sta bene Affidiamola La Madonna Ave Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta Fra le donne E benedetto Il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi Peccatori Adesso L'ora Della nostra Madonna Donnina Prenditi cura Di questa persona E stavo dicendo Qualche volta Ci fanno incavolare I nostri cari E allora Gesù dice Bravo Sei mio discepolo Se qualche volta Ti sei incavolato Anche con i tuoi cari Ma dopo vi spiegherò dopo Adesso cantiamo Il gloria 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 E pace in terra agli uomini di buona volontà Noi ti lodiamo Ti benediciamo Ti adoriamo Ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie Per la tua gloria immensa Signore Dio Re del cielo Dio Padre onnipotente Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo Signore Dio Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Perché tu solo è il Santo Tu solo è il Signore Tu solo L'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amen O Dio O Dio che ci hai reso figli della luce Con il tuo Spirito di adozione Fa Che non ricadiamo Nelle tenebre dell'errore Ma restiamo sempre luminosi Nello splendore della verità Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio Che è Dio E vive E regna con te Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli Dei secoli Dal secondo libro dei re Un giorno Eliseo Passava da Sunem Ove c'era un'illustre donna Che lo trattenne a mangiare In seguito Tutte le volte che passava Si fermava a mangiare da lei E la disse al marito Io so che è un uomo di Dio Un Santo Colui che passa sempre da noi Facciamo una piccola stanza Superiore in muratura Mettiamoci un letto Un tavolo Una sedia E un candeliere Così venne Venendo da noi Qui si potrà ritirare Un giorno che passò di lì Si ritirò nella stanza superiore E si coricò Eliseo disse Ah Getzi Sono servo Che cosa si può fare per lei? Getzi disse Purtroppo lei Non ha un figlio Suo marito è vecchio Eliseo disse Chiamala La chiamò E la si fermò sulla porta Allora disse L'anno prossimo In questa stagione Tu stringerai un figlio Tra le tue braccia Parola di Dio Grazie Posa al microfono Tengo la scatola Ti pulisci le mani E vai pure a sedere Canterò per sempre L'amore del Signore Canterò per sempre L'amore del Signore Canterò in eterno L'amore del Signore Di generazione In generazione Farò conoscere Con la mia bocca La tua fedeltà Perché ho detto È un amore Edificato per sempre Nel cielo Rendito rendi stabile La tua fedeltà Canterò per sempre L'amore del Signore Beato il popolo Che ti sa clamare Camminerà Signore Alla luce del tuo volto Esulta tutto il giorno Nel tuo nome Si esalta Nella tua giustizia Canterò per sempre L'amore del Signore Perché tu sei Lo splendore Della sua forza E con il tuo favore Innalti La nostra fronte Perché del Signore È il nostro scudo Il nostro re Del santo di Israele Canterò per sempre L'amore del Signore Dalla lettera di San Paolo Apostolo Ai Romani Fratelli Non sapete Che quanti siamo stati Battezzati In Cristo Gesù Siamo stati Battezzati Nella sua morte Per mezzo del battesimo Dunque Siamo stati Sepolti Insieme a Lui Nella morte Affinché Come Cristo Fu risuscitato Dai morti Per mezzo Della gloria Del Padre Così Anche noi Possiamo camminare In una vita Nuova Ma se siamo morti Con Cristo Crediamo Che anche Vivremo Con Lui Sapendo Che Cristo Risorto Dai morti Non muore più La morte La morte Non ha più potere Su di Lui Infatti Egli morì E morì per il peccato Una volta per tutte Ora invece Ora invece Vive E vive Per Dio Così Anche voi Consideratevi Morti al peccato Ma viventi Per Dio In Cristo Gesù Parola Di Dio Canto numero 78 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 Grazie a tutti. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nel Vangelo di Luca c'è scritto, Chi è amico del padre o della madre più che di me, non è degno di me. Chi è amico del figlio o della figlia più che di me, non è degno di me. È la frase che abbiamo letto oggi. In greco ci sono tre parole, tre verbi per dire amore, amare. Eros, che indica l'amore fisico tra uomo e donna. Filia, che indica l'amicizia. Agape, che indica la misericordia, il donarsi agli altri, l'altruismo, l'amore disinteressato. Nella frase che abbiamo letto oggi c'è il verbo fileo, filia, che indica l'amicizia. Gesù pretende di avere con noi suoi discepoli un rapporto di amicizia più profondo di quello che possiamo avere con qualunque altra persona. L'amicizia è condivisione di sentimenti, dialogo reciproco, ricerca di un confronto, piacere di stare insieme, aiuto nelle difficoltà, fiducia, portare nel proprio cuore ciò che interessa all'altro. Il rapporto di comunione tra due amici è così grande che alla fine si assomigliano, hanno in comune gusti, scelte, valori, visione del mondo, sogni, progetti. L'amicizia è un dono grandissimo che Dio ci ha fatto. Ebbene, Gesù ti dice, sono contento che tu abbia degli amici, ma l'amicizia più profonda deve essere quella con me. Magari l'amico lo senti tutti i giorni con un messaggio, una telefonata, un momento passato insieme, perché ti fa piacere stare con i tuoi amici. Ma non sei mio discepolo se non parli con me più di quanto tu parli con il tuo più caro amico. Non hai bisogno di un cellulare per comunicare con me. Puoi vivere tutta la giornata in dialogo con me, perché io ascolto sempre i pensieri rivolti a me. Questa è l'esperienza che facciamo noi. Abbiamo con Gesù un'amicizia tale che non possiamo averla nemmeno con le persone più care, nemmeno con mia madre, mio padre, i miei figli, mia moglie. Anche i legami più forti, che sono i legami del sangue, non sono così forti come il legame con Gesù. A volte l'amicizia, se vissuta nel modo sbagliato, può diventare un condizionamento, togliere la libertà, controllare l'altro. Ma l'amicizia con Gesù non è così. Essa ci rende liberi. Gesù vuole avere il primo posto, è vero. Vuole che passiamo più tempo con Lui che con qualunque altra persona. Tuttavia Gesù non è geloso. Non ci chiude in un rapporto esclusivo. Lui ci apre agli altri. Lui ci spinge a donarci a tutti. Lui mi insegna ad essere un amico migliore con i miei amici, un figlio migliore, un genitore migliore. È vero, tu sei un mio amico, ma non avrai mai il primo posto. Il primo posto sarà sempre per Gesù. Ma non preoccuparti. L'amicizia con Gesù mi aiuta a far crescere anche l'amicizia con te. Chi è amico del padre o della madre più che di me non è degno di me. Chi è amico del figlio o della figlia più che di me non è degno di me. Ma adesso voglio commentare anche l'altra frase di Gesù, simile a questa ma molto più forte, addirittura scioccante. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Quale adolescente non ha detto o almeno pensato, mamma ti odio, papà non rompere. Quale genitore non ha pensato qualche volta di suo figlio o sua figlia, non ti sopporto più, ma chi me l'ha fatto fare. Chi non è stato qualche volta invidioso o arrabbiato con i propri fratelli o sorelle. Chi non ha sentito qualche volta il peso del rapporto difficile con il marito o con la moglie. Qualche volta addirittura odiamo la nostra vita, ci sentiamo insoddisfatti, arrabbiati con tutto e con tutti. Sì, è vero, dentro di noi c'è tanta rabbia, lo dobbiamo ammettere. E spesso proviamo rabbia e rancore e odio proprio verso le persone più care, verso coloro che hanno il nostro stesso sangue. Odiamo di più coloro che amiamo di più. Trattiamo peggio coloro che farebbero di tutto per noi. E quante volte questi pensieri di odio verso i tuoi cari ti hanno fatto sentire in colpa. Io non sono un bravo figlio, io non sono una brava mamma, non dovrei provare sentimenti come questi. Ebbene, qui Gesù sembra che ci dica, lo so che è così. Ma non preoccuparti, non è un problema, anzi, può diventare un'opportunità. Gesù ti dice, se vuoi essere mio discepolo, devi riconoscere la tua rabbia. Devi accettare di provare questi sentimenti di ribellione. Devi accettare di non essere capace di amare. La rabbia che portiamo dentro non è solo qualcosa di negativo, ma è anche qualcosa di positivo. Il figlio è arrabbiato con i genitori perché vuole cercare la propria identità, vuole distinguersi. La rabbia tra marito e moglie è un campanello d'allarme che bisogna trovare spazi di dialogo, tempi per la coppia, maggiore attenzione reciproca. La rabbia verso un figlio mi fa capire che non basta l'amore di mamma e papà, che c'è bisogno di aiuto per dedicare un figlio da parte del catechista, dell'animatore, del sacerdote, dell'insegnante, dell'oratorio, di tutta la comunità, di Dio soprattutto. La rabbia esprime un desiderio di libertà, di non dipendere dall'altro. ci fa capire che non c'è nessuna persona che ci può rendere felici, che la felicità la possiamo trovare solo in Dio. Gesù ti dice, se tu ti senti un genitore bravo, un bravo figlio, uno che è sempre capace di fare tutto, uno che ha solo sentimenti buoni, non puoi essere mio discepolo, perché non sei sincero, nessuno è buono sempre. Se tu non scopri che da solo non sei capace di amare e hai bisogno che io ti insegno ad amare, non puoi essere mio discepolo. Per poter seguire Gesù deve aver sperimentato qualche volta il fallimento. Volevo amare. Volevo donare solo amore, invece qualche volta ho donato rabbia, odio, insofferenza. Volevo amare le persone, ma se tu Gesù non mi aiuti non ci riesco da solo. Questo è il vero discepolo di Cristo. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. La rabbia che tu a volte provi verso le persone più care è segno che tu sei fatto per me, tu sei fatto per Dio. Tu ami tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi fratelli, le tue sorelle, ma essi non possono essere lo scopo della tua vita. Lo scopo della tua vita è Dio. Tu non puoi essere una fotocopia dei tuoi genitori. I tuoi figli non possono essere l'unico scopo della tua vita. Tuo moglie o tuo marito non può controllare tutto di te. Tu rimani una persona libera. Un giorno Francesco aveva preso le stoffe più belle. Era andato a Foligno e aveva venduto tutto compreso il cavallo. Tornato ad Assisi aveva portato i soldi ricavati ad un sacerdote povero nella chiesa di San Damiano. visto che il sacerdote non voleva accettare questi soldi ha gettato il denaro sul davanzale di una finestrella della chiesa. Quando il padre ha saputo questo ha trascinato Francesco davanti al vescovo dicendogli che doveva ordinare a questo suo figlio di dargli i soldi che aveva ricavato dalla vendita. A questo punto Francesco si spoglia di tutti i vestiti e li dà al padre. Il vescovo ricopre Francesco con il suo mantello e Francesco dice non chiamerò più padre Pietro di Bernardone ma dirò padre nostro che sei nei cedi e se ne va via da Assisi povero senza possedere più nulla a fare lo sguattero in un monastero a servire i lebrosi fino a quando dopo qualche anno arrivano i primi discepoli. Nasce il francescanesimo. Francesco amava suo padre e sua madre ma aveva capito che non poteva essere la loro fotocopia. Aveva capito che il rapporto con Dio viene prima. Aveva capito che doveva seguire quella strada che Gesù gli stava suggerendo. Ecco cosa significa odiare il padre la madre i figli la moglie eccetera significa non fare di essi lo scopo della propria vita. Io valgo di più. Se tu vivi per gli altri dipendi da loro se tu vivi per Dio sei libero. Un giorno una donna piangendo mi diceva la mia vita è finita ho dedicato la vita a una persona e se n'è andata. Le ho risposto se tu vivi per gli altri hai ragione la tua vita è finita ma se tu vivi per Dio la tua vita è infinita. Credo in un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore e dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà Donaci la libertà Signore Per Papa Francesco e per i nostri pastori il Signore conceda loro luce e forza per essere padri nella fede del popolo cristiano e testimoni affascinanti della bellezza e della ragionevolezza del cristianesimo per ogni uomo Preghiamo Donaci la libertà Signore Preghiamo affinché coloro che soffrono trovino percorsi di vita lasciandosi toccare dal cuore di Gesù Preghiamo Donaci la libertà Signore Perché il Signore converta il cuore degli uomini e fermi il braccio dei violenti che sconvolgono alla convivenza nelle nostre città Preghiamo Donaci la libertà Signore Perché i cristiani amino le proprie chiese e ne curino il decore e la bellezza così che siano degne di more del corpo di Cristo e favoriscano un autentico incontro con Dio Preghiamo Donaci la libertà Signore Purifica il nostro cuore o Padre perché ogni nostro gesto e ogni nostra parola sia abitata e trasformata dalla Tua misericordia Preghiamo Donaci la libertà Signore Per i fratelli delle chiese sorelle e per gli ebrei Preghiamo Donaci la libertà Signore Per gli sposi Innocenza Giuseppe e Veranna Cossetta in occasione per il loro anniversario di matrimonio oggi Preghiamo Donaci la libertà Signore Preghiamo Signore per i nostri fratelli che riposano in Cristo perché entrino nella gioia nella luce e nella pace in particolare ti preghiamo per Rissone Teresa vedova Chiappino nell'anniversario Curra Antonio Chiappino Giuseppe Eugenio Chiappino Angela Ferrero Giovanni Mario Faletti Maria Cavagnolo Paolo Coppo Gemma Pierina Ignazio Camerano Pietro Preghiamo Donaci la libertà Signore per Cristo nostro Signore L'interno Preghiamo Del lavoro che ho fatto, padre della nostra vita, ci vorrei piantare. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che accoglierò dentro di me, farò di me una festa viva. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che l'ho più bevito, non prestavo i pesi, oggi vieni per te fare il primo vero dell'umanità. Che il cuore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai fatti partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allentano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, Signore, che si uniscono le nostre umidi voci nell'inno di Lone. Seggetto E' un grande sogno di Lone. Ma per mezzo di Lone. In Lone. E' un grande sogno di Lone. Anche a Gesù. E' un grande sogno. E' un grande sogno di Lone. In Lone. A loro canzoni di Lone. Lone è un grande sogno. Nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi i corpi e sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti questi il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donna a noi la pace. Beati gli invitati e la cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. grazie. 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 Grazie.